ma è che un'entrata così rara sto facendo squat io qua ma la pesce di *** ma la pesce sotto adesso il pesce di sotto lo dico sotto il ponte hai piedi pesce ci sei? io no che comodo mettere le pille così ragazzi ecco che vedo che vedo nello buono bellissimo stavoloso sta a te a me non sta sicuramente scegliere ma è che io non lo faccio apposta c'è veramente aspetta che lanci no 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 porco ma lo pesce qua sotto questo ma che è sarà lo 040 secondo me che da quel tocco lì come te lancio più lungo anche poi che ho fatto tre lanci io ho fatto tre becci Mike io li spavento ti mi mangi destra è una camera da reali non è da per sono arrivati porca ma santissimo put***a per se non 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 non